Non sei sola, non sei di chi ti minaccia. Con un manifesto che sarà affisso su tutto il territorio cittadino, il Comune di Napoli conferma il proprio impegno contro la violenza sulle donne e si rivolge soprattutto alle straniere vittime di tratta. Un messaggio tradotto in varie lingue per ribadire che le donne immigrate hanno gli stessi diritti di quelle italiane. Il manifesto è in tre lingue, dà dei numeri di telefono a cui rivolgersi per le donne vittime di tratta, informa sulla possibilità, quindi sul testo unico dell'immigrazione, l'articolo 18, quindi la possibilità del permesso di soggiorno per chi si trova in una condizione di difficoltà sociale. Il 90% delle donne che li vediamo in strada sono sfruttate, sono sfruttate fisicamente e psicologicamente dai uomini oppure da queste organizzazioni criminali che con l'inganno oppure con varie forme violente li portano qui in Italia. La campagna che si inserisce nelle iniziative della convenzione No More contro il femminicidio è realizzata dall'assessorato alle pari opportunità con la collaborazione del progetto La Gatta e dell'Unione Donne Italiane. L'obiettivo è di informare le giovani vittime di violenza sulle leggi che le tutelano e sulla rete dei servizi di ascolto e di accoglienza che sono attivi in città.